vi ricordate quando dicevo che sui gol annullati alla juventus mettevano il frame sbagliato vi ricordate quando diceva dicevo che annullavano i gol a morata e mettevano il frame sbagliato annullavano i gol di kin e mettevano il frame sbagliato annullavano i gol di vlavic e mettevano il frame sbagliato hanno fatto sempre così hanno giocato chiaramente sul frame sbagliato hanno annullato i gol alla juventus sul frame sbagliato è una cosa chiara della quale ci siamo accorti da tempo non solo adesso ci siamo accorti ora che è venuto fuori l'audio vergognoso della partita juventus verona quando dicevamo che il gol era valido se prendo il frame dietro kin è buono l'audio var ha smascherato chiaramente l'errore la clamorosa spiegazione della decisione sul primo gol annullato all'attaccante nuova verona la tecnologia sceglie il frame sbagliato e si poteva correggere tutto è venuto fuori della puntata di open bar dove vengono discussi gli episodi arbitrali della giornata della penultima giornata di serie a quindi sono stati analizzati i gol annullati a mosekin juventus verona match vinto dalla juventus proprio in extremis ricostruiamo sul risultato di 0 a 0 nel corso del primo tempo kin si vede annullare la rete del 1 a 0 per un fuorigioco millimetrico che non c'è in partenza dell'azione questa l'analisi in salavar dell'operatrice che si rivolge all'arbitro una donna guarda questo me lo dà arancio dobbiamo controllare attentamente il punto controlla bene gli scheletri perché è tight posso confermare il sistema mi dà fuorigioco nasca segue la procedura e avvise il direttore di gara feliciani devi fare over rule per offside kin è in fuorigioco di partenza ok millimetrico ma è offside con gervasoni che ad open var spiega bandierina arancione significa che siamo in presenza di un fuorigioco entro il mezzo metro difendente attaccante punto di rilascio del pallone con che cure è avvenuto il controllo si fa un frame avanti quello individuato dal fuorigioco semi automatico e un altro indietro da qui la decisione dell'annullamento del gol l'operatore e il var devono verificare che il sistema abbia individuato il frame corretto noi a questo punto scopriamo anche un'altra cosa scopriamo che oltre all'arbitro in campo oltre al quarto uomo oltre agli assistenti cioè gli ex guardaline si chiamano assistenti oltre al var oltre al var c'è anche l'operatrice cioè c'è anche l'operatrice lì dentro voi immaginate che casino questi stanno combinando infatti abbiamo sentito la voce dell'operatrice una cosa scorretta l'operatrice che dice se metto il frame precedente non è fuorigioco e si nota come il frame precedente è proprio il momento in cui parte la palla in cui va individuato il fuorigioco quindi non c'è fuorigioco proprio la mala fede venuta fuori smascherata la mala fede ma d'altra parte era evidente era chiaro non potevano tutti i gol essere annullati alla juventus quelli con i frame mettono il frame che piace a loro e annullano i gol della juventus è un fatto di una gravità elevata abbiamo visto in questa situazione francamente è davvero molto molto particolare poi si va al secondo gol annullato a kin io sono se una settimana e mezza che vi dico guardate quel gol è da darla subisce il fallo e senti la voce vedi come prende kin il giocatore del verona dice l'arbitro var nasca e questa è una manata porca miseria dello stesso avviso e la var a battista per me questo è un fallo in up che poi significa attacking possession pace tutto conseguenziale non c'è cambio di possesso sull'episodio il commendatore gervasone dice situazioni che in campo l'arbitro gli ufficiali avrebbero dovuto cogliere immediatamente difendere la posizione consentito appunto ma con la giusta altezza delle mani corretto il fallo il fatto di non ammonire kin dunque è la gol nettamente regolare mi pare una cosa onesta mi pare una cosa giusta quello che hanno fatto e questo serve ad evidenziare laddove ce ne fosse ancora il bisogno degli imbrogli che fanno di come la juventus è costantemente danneggiata dai frem perché si appellano ai frem per annullare i gol alla juventus quella già ne fa tanti poi li annullano pure allora andrei a vedere anche il fuorigioco del gol di chino contro il torino andando poi dietro era fuorigioco secondo voi no era messo il film come dicono loro a quanto e quante ne dobbiamo ancora subire quante ne dobbiamo ancora verificare questa è solo una delle milionesime situazioni che si vengono a determinare in questi giorni stiamo assistendo alla celebrazione nuovamente del più sopravvalutato degli allenatori o meglio degli anti allenatori perché questo è sopravvalutato anche come anti allenatore è un distruttore mi riferisco ad allegri le concetture a favore di allegri per aver ottenuto un risultato in quel modo si moltiplicano e quasi sembrano passare in secondo piano o in minoranza i grandi protestanti per la presenza di quell'individuo sulla panchina della juventus ancora una volta l'atteggiamento avuto a firenze finito poi con il portare a casa l'uno a zero secondo me è solo un caso che la juve è riuscita a vincere quella partita tanto è vero che a bergamo l'atalanta la partita non l'ha vinta a milano giocato diversamente come già abbiamo detto nei video precedenti allora vi voglio un po rinfrescare la memoria perché a me piace rinfrescarmi la memoria lo dico non tanto a gente in mala fede che scrive e parla nei telegiornali nei video giornali nelle trasmissioni di mediaset o piuttosto che nelle nelle creazioni di youtube vi voglio ricordare l'atteggiamento di juventus fiorentina o meglio fiorentina juventus 0 1 gol di miretti a proposito poi di miretti parleremo a fine video vi voglio solo ricordare che l'atteggiamento avuto sul campo della fiorentina che ha portato l'uno a zero per la juventus e lo stesso atteggiamento di civiglia juventus semifinale di europa league non più di 5 6 mesi fa lo stesso atteggiamento essere le presi appallonate dal civiglia fuori dell'europa league niente finale tutta italiana il civiglia è andato in finale l'ha vinta pure lo stesso atteggiamento è lo stesso atteggiamento che ha avuto a firenze qualche settimana precedente lo stesso atteggiamento addirittura senza schierare nessuna punta nessuna punta stesso atteggiamento semifinale di coppa italia inter juventus andata uno a zero per la juve anzi uno a semifinale di coppa italia stesso atteggiamento fuori dalla coppa italia vergognatevi chi difende quel calcio deve ricordarsi non deve avere la memoria corta con quel calcio di firenze la juve si è giocata due coppe cinque sei mesi fa prima dell'estate con quell'atteggiamento con quel modo di giocare o le cose le dimenticate con lo stesso modo di giocare la juventus ha preso tre gol dal maccabi tel aviv fuori dalla champions league questi si chiamano danni economici fatti alla juventus danni economici il calcio che state celebrando chi sta celebrando questo calcio deve vergognarsi e squallino è uno squallore totale chi celebra allegri per aver fatto quella partita e aver portato a casa il risultato è in mala fede la memoria corta e non e nei miei social sotto i miei social non parla non scrive perché cancello perché non avete diritto a scrivere perché siete gente in mala fede questo siete siete persone in mala fede ve ne ho detto soltanto qualcuna ve ne ho dette ricordo voglio ricordarvi che allegri con la juventus ha vinto 11 competizioni in otto anni ne ha perso 21 è il più perdente allenatore della storia in senso assoluto il più perdente lo dicono i numeri perché uno che fa quel tipo di calcio è un perdente è un perdente dentro quindi che mi viene a dire che vinti cinque scudetti qualche coppetta ha fatto fare le finale di coppa dei campioni alla juve con un altro allenatore avrebbe fatto un play in perché la squadra che vince cinque scudetti di fila assommati ai tre di conte e all'uno di sarri vince almeno due coppe dei campioni non è che arriva in finale ne prende sette anche se col barcellona c'è linguaggio collina turchia arbitro questo l'ho scritto l'ho denunciato anche su tuttoyove.net potete trovarlo per cui vi sempre vi rimembro la memoria d'accordo perché onestamente non possiamo farci mettere in testa i piedi dalla Fiorentina dalle altre squadre eppure anche dai pseudo tifosi della Juventus chiamati allegristi allegriani si quattro scansa fatiche no voglio capire tutta la narrazione intorno ad allegri chi non li fanno entrare in tribuna in sala stampa per fare le domande chi c'è amico perché c'è amico a livello personale chi è l'addetto stampa occulto no qua no qua vi diciamo la verità ve la spiattelliamo in faccia per cui vi ricordo che la partita con la Fiorentina giocata in quel modo ci è costato cento milioni di euro ci è costato cento milioni l'uscita dalla Champions League l'uscita dall'Europa League e l'uscita dalla Coppa Italia sono cento milioni di euro per cui il passivo in bilancio della Juventus è solo ed esclusivamente colpa di quel non gioco di questo allenatore chioso con Miretti non vorrei che il gol di Miretti costituisca un danno enorme alla Juventus perché Miretti ci costa tre calciatori in campo quando c'è Miretti la Juve gioca a tre in meno a tre in meno e sappiamo perché gioca gioca perché è della stessa dello stesso team di procuratori di Allegri esatto Branchini il quale Branchini ha la società con il papà di Miretti ha una società insieme di cui Allegri è socio occulto è socio senza apparire perché non può apparire ufficialmente perciò gioca Miretti per questo motivo una monnezza di calciatore 60 presenze gli ha fatto fare a questo pseudo calciatore fa la riserva nell'Under 21 c'è uno che fa 60 presenze nella Juventus nella nazionale l'Under 21 lo convocano perché non ci sono giocatori e lo mettono a riserva e non vorrei che questo mi ha segnato il gol lo aveva un po' escluso per vergogna lo aveva escluso per vergogna ce lo ritroveremo nuovamente titolare un'altra volta vi ricordo le situazioni importanti questa è la mia paura ma non è soltanto la mia paura mi stanno scrivendo centinaia di follower di amici che saluto naturalmente i quali hanno la preoccupazione che questo riprende a mettere Miretti titolare e sarebbe un grave danno cioè questo quando lo mette titolare la Juve o gioca male o è costretto a cacciarlo a fine primo tempo perché gli vuole far fare le presenze Miretti è un danno per la Juventus è un danno mai visto un giocatore più scarso nella Juventus mai io spero sempre ve lo dico il ragazzo deve stare bene tutta la vita deve vivere la migliore vita possibile un bello stiramento una volta 20 giorni una volta 25 giorni un stiramento del muscoletto e basta che ce lo devono togliere da nanti perché lui non gioca per merito gioca per raccomandazione questo squallido calciatore gioca per raccomandazione questo è l'allegrismo vorrei far capire a chi parla di allegri e poi la narrativa che è una squadra di scarponi una squadra di scarponi sono 19 nazionali la squadra più pagata più costata e soprattutto più pagata è una squadra di scarponi perché devono difendere l'allenatore che li fa sembrare dei scarponi mi fermo qui mi fermo qui mi fermo qui mi invito ad iscrivervi al mio canale youtube Sergio Vessicchio ad attivare la campanella delle notifiche e a mettere un like se lo ritenete opportuno riflettete su questi argomenti vi invito a scrivere la vostra sembra con educazione agli allegrani non ci venissero non sono qui non sono benvoluti non sono stimati e possono stare al loro posto perché appena mi accorgo anche lontanamente che c'è un commento degli allegrani lo scasso lo cancello alla prossima grazie